Le tragedie della montagna in apertura. Cominciamo con Barco di Levico dove oggi pomeriggio alle 16 un parapendio a motore precipitato uccidendo il pilota, i particolari da Franco Pistolato. La vittima è Alessandro Avancini, 55 anni di Trento, pilota esperto di parapendio a motore. Il suo corpo è stato notato da alcuni passanti nel campo dove atterrano e decollano di solito i parapendii nella zona a nord di Barco di Levico, poco distante dalla ciclabile. Sul posto sono subito giunti il 118, il medico rianimatore con l'elicottero oltre ai vigili del fuoco di Levico. Purtroppo però per Alessandro Avancini non c'era più nulla da fare. Il decesso è avvenuto praticamente sul colpo. Secondo una prima ricostruzione lo sportivo, molto esperto di questa pratica, si sarebbe alzato con il suo parapendio a motore proprio dalla zona di Barco di Levico. Ad un certo punto, da stabilire se per una manovra errata o per un malore, la vittima ha perso il controllo del velivolo ed è precipitato da una cinquantina di metri, rimanendo investito anche dal motore. Il magistrato ha disposto l'esame otoptico. Ed un uomo di 52 anni, Alessandro Mativi di Trento, è morto mentre percorriva il sentiero Costanzi che dal rifugio Graffer conduce al bivacco vecchio in zona Rostè, sopra Madonna di Campiglio. L'uomo era partito ieri da solo con l'intenzione di raggiungere il bivacco e pernottare, ma a quota 2.800 metri, è scivolato precipitando in un canalone per 200 metri. Il figlio, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha dato l'allarme questa mattina. Le squadre del soccorso alpino sono salite alla ricerca dell'uomo che è stato individuato grazie all'aiuto dell'elicottero. attorno alle 15. Per lui, purtroppo, nulla da fare. La salma è stata trasportata a Campiglio. Imprenditore, sposato, l'uomo era un appassionato frequentatore della montagna. Poco fa è stato recuperato nel gruppo della presenella il corpo senza vita di Martino Maffei. 48 anni, lo vediamo nelle immagini di Pinzolo, ex soccorritore alpino, autista del 118 all'ospedale di Tione. Maffei era partito in mattinata per raggiungere Cimalancia, sopra Carisolo. Alle 10 l'ultima ha telefonato alla famiglia dalla Cim, poi nulla fino al tragico ritrovamento. L'alpinista è caduto appena iniziata la discesa per 150 metri in un canalone che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera valle dove Martino Maffei era figura molto nota e apprezzata nell'ambito del volontariato.